Appuntamento questo fine settimana sabato 15 e domenica 16 dicembre con Ferrarov, due spettacoli e due iniziative di cui ci parla Marcos Garbi. Che cosa succede dunque questo weekend? Allora questo weekend concludiamo diciamo gli appuntamenti autunnali e avremo uno spettacolo sabato sera alle 21 in scena Alessandro Blasioli, un monologo scritto dallo stesso Blasioli per cui ha vinto il premio delle giurie a Gualtieri per Direction Under 30. È un giovane attore sotto i 30 anni che ha scritto Sciaboletta, ovvero la piccola storia di un piccolo re che riguarda la fuga di Vittorio Emanuele proprio negli anni 40 durante la guerra quando in qualche modo il regime fascista aveva già preso il potere e questo piccolo re così viene descritto anche abbastanza ironicamente perché tutto lo spettacolo ha dei toni molto ironici da parte dello stesso autore Blasioli. Questo piccolo re scappa in questa Italia scortato da 40 macchine passando in un paese in un momento storico senza identità in cui non si capiva bene se doveva essere in qualche modo essere un personaggio rispettato oppure odiato e in effetti Vittorio Emanuele incontrò persone che lo osannavano così come molti che lo hanno osteggiato. Quindi parla di un'Italia che in qualche modo era senza identità come se vogliamo un'Italia molto attuale che sta cercando il proprio ruolo. Questo per quello che riguarda sabato, una contemporaneità legata al passato e invece domenica che cosa proporrete? Domenica abbiamo un altro appuntamento della rassegna Tradire Bassani a cura di Monica Pavani, una rassegna letteraria. Presenteremo il libro di Sandro Abruzzese, un autore che vive a Ferrara da qualche anno e che ha scritto questo volume, questo romanzo Casa per Casa che parla di Ferrara, parla di come una persona che non è di Ferrara scopre la nostra città, scopre il territorio e ne osanna le bellezze, ne esplora anche le difficoltà di inserirsi in un contesto sociale che non è quello in cui è cresciuto. Un testo molto importante, molto bello che fa parte di questa rassegna che è sostenuta dal Comitato Nazionale per i cento anni della nascita di Giorgio Bassani.